Due moldavi sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Borgo Santa Maria a Pesaro perché colti in fragrante per furto aggravato in concorso. Ai due moldavi i militari sono arrivati grazie alla collaborazione attiva dei titolari di una ditta di alimentari che nella tarda serata del 13 febbraio hanno chiamato tempestivamente il 112 dopo essersi accorti che i ladri avevano abbattuto la recinzione della loro azienda e stavano caricando su di un furgone due bancali di merce in legno. Con la descrizione dei ladri e del furgone i carabinieri hanno in breve tempo individuato e fermato il furgone sospetto e bloccato i ladri ancora a bordo del mezzo. La perquisizione del furgone ha permesso di ritrovare la merce rubata poco prima dall'azienda come descritto dai proprietari. Denunciati in stato di libertà ai due moldavi e la merce così restituita ai legittimi proprietari.